Musica Bentornato Cutler, bentornata Andiamo a vedere una nuova sezione del pannello di controllo Quella che oggi definiamo come opzioni cartella A cosa serve? A modificare le impostazioni sul funzionamento di file e cartelle e la loro visualizzazione Può tornarti utile personalizzare alcune impostazioni per una visualizzazione alternativa Che ti aiuti nella gestione dei file o delle cartelle Come accedi? Ovviamente dal pannello di controllo individui il pulsante opzioni cartella La finestra che si mostrerà ti presenterà tre sezioni La prima sezione generale, visualizzazione oppure cerca Nella sezione generale trovi altre sottosezioni Sfoglia cartella, selezione e apertura oggetti e riquadro di spostamento Oltre che il pulsante ripristina valori predefiniti Dalla prima sottosezione puoi selezionare se aprire le cartelle in una sola finestra Oppure in finestre separate Che cosa significa? Quando apri esplora risorse, se devi individuare un file Cliccherai n volte fino a raggiungere tali file Magari passando per diversi click per altre tante cartelle Ogni avanzamento nell'esplorazione verrà visualizzato sempre nella stessa cartella Oppure se ne aprirà una nuova a seconda di quanti click e a seconda di dove è posizionato questo file Se hai selezionato apri cartelle in una sola finestra Si aprirà una sola finestra per ogni successivo click Mentre se hai selezionato apri cartelle in finestre separate Otterrai come detto l'apertura di n cartelle Quindi se da un lato aprendo n cartelle potrai ripercorrere tutta la serie di click Ti troverai di fronte a un certo numero di finestre aperte Che può essere ostico e fastidioso doverle chiudere successivamente Quindi io personalmente lascio selezionato apri cartelle in una sola finestra Dalla seconda sottosezione cambi l'interazione del puntatore e del mouse Su ogni elemento all'interno delle cartelle o all'interno di explore resources Puoi impostare che cliccando una sola volta si apra il file E quindi il corrispondente programma che determina l'apertura del file stesso Oppure la cartella come se tu dovessi cliccare su un collegamento ipertestuale E al passaggio del mouse invece si evidenzia l'elemento Quindi senza dover cliccare questo se selezioni questa spunta All'interno di questa opzione potrai far sì che l'elemento o gli elementi Che andrai a visionare all'interno di explore resources Siano sottolineati secondo le impostazioni Oppure se sono selezionati dal passaggio del mouse Alternativa è impostare questo segno di spunta Con il quale potrai aprire l'oggetto con il doppio clic E quindi avviare eventualmente il programma Oppure cliccare una volta soltanto per selezionare l'elemento Questa è l'opzione che io normalmente impiego La terza sottosezione è riferita al riguardo spostamento Che ti consente di variare l'apertura della visualizzazione delle varie cartelle Nella colonna di sinistra di explore resources Chiamata appunto riguardo spostamento Aprendo il programma explore resources Vedrai solo alcune cartelle Non comparirà il collegamento ad esempio del desktop Se non all'interno della raccolta dei preferiti Quindi la cartella raccolta preferiti Selezionando mostra tutte le cartelle Otterrai una visualizzazione più ampia Delle cartelle presenti all'interno di explore resources E un'ulteriore implementazione di visualizzazione Avverrà se selezioni la casella di spunta Espagni automaticamente fino alla cartella corrente Ciò ti permetterà di aprire l'ultima cartella E quindi l'ultimo elemento che avevi esplorato Durante questa ultima apertura di explore resources Senza dover passare di nuovo n volte Replicando i successivi click Fino all'elemento che vorrai raggiungere Seguendo la struttura ad albero Ma immediatamente avrai srotolato e posizionata La visualizzazione sull'elemento ultimo Che avrai scelto di visualizzare Il pulsante ripristina valori predefiniti Riporterà le impostazioni allo standard Dettato dalla Microsoft La sezione visualizzazione presenta molte impostazioni Che potrai visionare muovendo questa barra di scorrimento Sono riferite alla visualizzazione di file e cartelle Per non dilungare troppo nella descrizione Puoi senz'altro scorrere e sperimentare le varie opzioni Ma soprattutto ti invito a seguire la guidallina specifica Per questa sezione che è ben dettagliata E le cui opzioni sono rappresentate in una tabella Nella quale potrai scegliere come ottenere il corrispettivo risultato Seguendo la procedura elencata nella colonna di destra Come puoi vedere è abbastanza corposa questa tabella E con il tempo potrai sperimentare l'una o l'altra opzione Per migliorare la tua esperienza d'uso di Esplora Risorse Quindi ti rimando ad una consultazione con il tuo tempo E con assoluta libertà nel decidere quale di queste opzioni utilizzare Ti cito soltanto una parte della mia esperienza Che mi ha portato a cambiare alcune di queste impostazioni Ad esempio troverai una casella di spunta Che ti permetterà di selezionare Non visualizzare cartelle, file e unità nascosti In alcuni casi ho cambiato le impostazioni Visualizzando appunto cartelle, file e unità nascosti Soprattutto in fase di diagnostica Perché i malware possono celarsi sotto mentite spoglie Quindi presentarsi come file nascosti E se non cambi le impostazioni di questo segno di spunta Sarà per te impossibile visionarli Stesso approccio alla spunta Nascondi file protetti di sistema Ma in questo caso file particolari Attenzione perché vedrai in visione anche Dei file che sono protetti del sistema operativo E che se dovessi rimuovere o alterare in malo modo Manderesti in crash il sistema operativo Rendendolo instabile Altra cosa che mi ritorna sempre utile È visionare le estensioni dei file Ormai tu sai cosa sono le estensioni dei file Per rendere visibile appunto l'estensione dei file Se è eseguibile, se è un file documento O un file immagine A seconda della tipologia dell'estensione Devi togliere il segno di spunta Sulla scritta nascondi le estensioni Per i file sconosciuti Infatti se il segno di spunta è presente Non potrai visionare le estensioni Per vedere invece le anteprime dei file Che hai selezionato Togli il segno di spunta dalla casella Mostra sempre le icone, mai le anteprime Questo ti potrà essere utile Per visionare una piccola anteprima Del file dell'elemento che avrai selezionato Se vuoi rendere invece diversa La modalità di selezione dei file Puoi attivare la casella Utilizza caselle di controllo Per selezionare gli elementi Cosa accadrà? Avendo Explorer Risorse Comparirà accanto ad ogni elemento Una casella che tu potrai selezionare Come le caselle di spunta Accanto ad ogni file e accanto ad ogni cartella Questo ti permetterà di selezionare Appunto file Soprattutto se non sono adiacenti Con un semplice click del mouse Per una selezione più ampia Qui hai una selezione più dettagliata Potrebbe anche darti fastidio Questa visualizzazione Ma lascio come sempre a te La scelta di utilizzare L'una o l'altra metodologia Di selezionare elementi e cartelle Altre opzioni Di questa lunga schiera Non ho avuto il piacere E il tempo E la voglia di indagare E se vorrai Potrai anche condividere Con me E con gli altri lettori O utenti Che visioneranno Questa lezione Rendendocene partecipe Torniamo alla sezione Di visualizzazione Trovi il pulsante Ripristina Che riporta Tutte le impostazioni Alle condizioni standard Invece Un'opzione particolare Che può variare La visualizzazione Degli elementi È Applica alle cartelle Questo pulsante Che normalmente Trovi non evidenziato Diventerà attivo In una specifica situazione Ti consente Di applicare Delle impostazioni Di visualizzazione Specifica Per un gruppo Di cartelle Ad esempio Se vuoi vedere Le anteprime Delle cartelle Puoi impostare Tale opzioni Di visualizzazione Solo per quel tipo Specifico Di visualizzazione Un possibile percorso Che vedremo In miglior modo Durante la pratica È quello di Avviare e esplorare risorse Scegliere Gli elementi Sui quali applicare La visualizzazione Che vorrai Personalizzare Quindi andare A individuare Le cartelle Le cartelle O le partizioni Selezionare Il metodo Di visualizzazione Dal pulsante In alto a destra Chiamato Modifica Visualizzazione Se anteprime Dettagli O semplicemente Il nome Dopodiché Cliccando sul pulsante Strumenti Nella barra Di menu Se non visualizzi Tale pulsante Devi abilitare La visualizzazione Tramite Una sequenza Partendo dal pulsante Organizza Layout Ed infine Cliccando sul barra Di menu Per poter visualizzare Appunto Il pulsante Strumenti Dicevo Fatto ciò Seleziona Strumenti Vai ad individuare L'altro pulsante Opzioni Cartella Successivamente Visualizzazione Ed infine Troverai il pulsante Applica Alle cartelle Attive Cliccandoci sopra Farai acquisire La visualizzazione Personalizzata Per quel Specifico Gruppo Di cartelle Questa visualizzazione Naturalmente La potrai Variare In qualsiasi Momento Semplicemente Cliccando Sul pulsante Modifica Di visualizzazione E alterando A tuo piacere La visualizzazione Degli elementi All'interno Di esplora Risorse Capisco Che è Molto Ostico Seguire Le procedure Appena evidenziate In sequenza Su carta Su monitor Ma come ho detto Poc'anzi Quando vedrai La parte pratica Ti renderai conto Della semplicità Di come poter Personalizzare La visualizzazione All'interno Di esplora Risorse Il pulsante Di questa sezione Reimposta Cartelle Ti riporta Tutto Alle predisposizioni Standard Ultima sezione Delle opzioni Cartella È definita Cerca In questa Ultima sezione Imposti Le modalità Con cui Il sistema operativo Esegue Le ricerche All'interno Delle partizioni E delle cartelle In base Alla scelta Che otterrai In questa sottosezione Le tempistiche Della ricerca Potranno variare Notevolmente In alcuni casi Avrai Visionato ciò Che andrai A ricercare In pochi secondi In altri casi Occorreranno Molti minuti Le tre sottosezioni Che trovi Sono Obiettivo Della ricerca Modalità Di ricerca E Durante le ricerche In percorsi Non indicezzati Andare a selezionare L'una O l'altra opzione Quando il sistema operativo Deve eseguire Una ricerca Utilizza Un indice Ossia Una serie Di informazioni Specifiche Di un elemento Di un file Di una cartella Che sono Correlate A questo specifico Elemento File E cartella Sono pertinenti Ad esso Proprio grazie A questa indicizzazione È possibile Ottimizzare La ricerca Di un elemento Riducendone Appunto I tempi Un po' come Tener traccia Di ciò che c'è All'interno del computer Nella prima sezione Puoi selezionare Proprio Il tipo di ricerca Da eseguire Ponendo il segno Di spunta Su Cerca nomi di file E contenuti E nei percorsi Indicizzati Otterrai una ricerca Più rapida Proprio sfruttando L'indice Che il sistema operativo Si creerà Man mano Del suo utilizzo Se selezioni Se selezioni La casella Di spunta Invece Cerca sempre I nomi Di file E contenuti Ciò Comporterà Una ricerca Più lunga Fino a molti minuti Se dovrai Ricercare elementi All'interno Di intere partizioni Sa te Decidere Come ottimizzare La ricerca Come raffinarla Insomma La modalità Di ricerca Presenta Quattro caselle Di spunta Includi Sottocartelle Nei risultati Quando si esegue La ricerca Nelle cartelle Di file Trova Corrispondenze Parziali Usa ricerche In linguaggio Naturale E non utilizzare L'indice Durante le ricerche Di file Di sistema Nelle cartelle Di file La prima È ovvia Include Nella ricerca Sia le cartelle Che le sottocartelli All'interno Di Esplora Risorse O della cartella Che avrai Selezionato La seconda opzione Include O meno Nelle ricerche Parole Con corrispondenze Ossia Uguaglianza Parziale E quindi Anche se non Perfettamente Uguali Alle parole Che andrai a digitare Nel campo Di ricerca Quindi potrai Anche Includere Parole Che non sono Perfettamente Correlati Al tipo Di ricerca E quindi Sarà Anche Più lunga La terza opzione Se è selezionata Esegue la ricerca Impiegando Un linguaggio Naturale Standard Non alterato Un po' Come dire Escludendo Il linguaggio Dialettale Se vogliamo L'ultima opzione Ti consente Di non utilizzare L'indice Per ricercare I file Del sistema operativo All'interno Delle cartelle Che andrai a selezionare Ovviamente Non utilizzando L'indice La ricerca Sarà Molto più lunga La sottosezione Durante la ricerca In percorsi Non indicizzati Puoi Inserire O meno Cartelle Di sistema Oppure File Compressi O simili A seconda Di quale Casella Di spunta Selezionerai In questa Sezione Infine Come ben saprai Il pulsante Ripristina Predefinite Riporterà Le impostazioni Di questa Sezione Ai valori Di default Dettati Dalla Microsoft Ricordati Sempre Che Durante Le scelte Nelle varie Sezioni Per far acquisire Le tue Selezioni Le tue Impostazioni Dovrai cliccare Su ok Oppure Su annulla Per Rigettarle Eccoci qua Goodler Andiamo a vedere Come interagire Con le opzioni Cartella Accediamo Al pannello Di controllo E vai Ad individuare Il pulsante Opzioni Cartella Cliccaci Sopra Per aprire La sezione Che ti permetterà Di interagire Con le impostazioni Come detto Ci sono tre sezioni Generale Visualizzazione E cerca Nella prima sezione Puoi scegliere Di sfogliare Le cartelle Aprendo Una sola finestra O N finestre Separate Mi spiego Con un esempio Apriamo Esplora Risorse Qui tu puoi avere L'apertura Dei vari File E vari elementi Aprendo Semplicemente Una sola Cartella Oppure Selezionando L'opzione Apri cartelle In finestre Separate E applicando Se tu vai ad aprire Troverai N cartelle Aperte Come puoi vedere Qui ho una visualizzazione Della cartella Musica E della cartella Musica Campione Quindi In questo modo Avrai l'opportunità Di vedere Quanto appena Descritto Quindi due cartelle Aperte Io personalmente Lascio Impostata Apri cartelle In una sola Finessa In modo che Ad ogni Apertura Ad ogni click Dell'elemento Apriendo Esplora Risorse Andrò A visualizzare E quindi Aprire Sempre E solo Una cartella Fino a raggiungere L'elemento Che avrò Scelto In questa Sezione Trovi anche La sottosezione Seleziona Apertura Oggetti In questo caso Ho sempre selezionato Doppio clic Per aprire Gli oggetti Cosa che io Normalmente Lascio Attivo Quindi Se io devo Aprire Un elemento Cliccando Sopra Due volte Andrò A esplorarlo Oppure Avviare Se in questo caso Ho raggiunto Il file Voglio Visionarlo Se invece Vado a Selezionare L'opzione Un click Per aprire L'oggetto Passaggio Del mouse Per selezionarlo Accade che Una volta Applicato Se voglio Selezionare Il singolo Elemento Sarà sufficiente Posizionarmi Sull'elemento Sesso Dopo una frazione Di secondo Sarà evidenziato Per avviare L'elemento Sarà sufficiente Cliccare Una volta E si aprirà Il lettore Multimediale Come in questo caso Puoi vedere Torniamo Alle impostazioni Di nuovo Dal pannello Di controllo Riapriamo La cartella Per le impostazioni Potrai decidere Se lasciare Sottolineato Solo l'elemento Selezionato Oppure Tutti gli elementi Come puoi vedere In questo caso È selezionata La cartella Musica Campione E tutti gli elementi A prescindere Da Una eventuale Tua selezione Questa opzione Particolarmente A me non piace E la tolgo Altra cosa Che puoi Gestire Nel riguardo Spostamento Che è questo È selezionare Questo segno Di spunta E quest'altro Applicando Potrai far sì Come hai visto In tempo reale Che subito Immediatamente Si aprirà Il riguardo Spostamento E si posizionerà Dell'elemento Della cartella Selezionata Rispetto a Ciò che sto Visualizzando In questo momento Questo ti potrà Essere utile Per una Più rapida Consultazione A te La libera scelta Ricorda Se non dovessi Riuscire a vedere Perfettamente Questo Riquadro Spostamento Sarà sufficiente Cliccare sul pulsante Organizza Individuare Il pulsante Layout E quindi Selezionare Riquadro Spostamento In questo caso L'ho deselezionato Tornando di nuovo In posizione Andrò a Visionare Di nuovo Il riguardo Spostamento Proseguiamo Nella descrizione Il pulsante Ripristina Valori predefiniti Ti permetterà Di ripristinare Tutte le opzioni Ovviamente Se tu farai Acquisire Queste impostazioni Ripeto Ripristinerà Per questa sezione I valori predefiniti Scelti dalla Microsoft Questo pulsante Ti permetterà Di aprire E consultare La guida e linea Di cui parlavo Durante la descrizione Teorica Altra sezione Visualizzazione Qui hai Un'ampia scelta Di selezione Come ti dicevo Durante la descrizione Della parte teorica Potrai andare A scegliere Di selezionare O deselezionare Ognuna di queste Opzioni E andare A individuare Ciò che permette Di attivare O disattivare La singola Spunta Nel dettaglio Ti cito Alcune opzioni Che io Personalmente Ritengo utili Sono quelle Di visionare Cartelle File E unità Nascosti Qualora tu Dovessi Effettuare Una ricerca Una diagnosi Di qualcosa In particolare Altrimenti Non la selezionare Questo ti permetterà Di visionare Appunto File Cartelle Insomma Unità Nascoste Per quel che riguarda Il sistema operativo Diciamo che se tu volessi Andare ad individuare Il risultato Già qui poi Avere qualche feedback Questa cartella Che è Meno colorata Rispetto ad altre Ti indica che questa È una cartella Nascosta Infatti Cambiando la Spunta di questa Selezione E applicandola Troverai che Queste due cartelle Leggermente Meno Marcate Dal punto di vista Del colore Saranno Di nuovo Non in vista Altra cosa Che personalmente Vi tengo utile In fase di diagnostica Soprattutto È evitare Che vengano Nascosti I file Protetti Da sistema Come puoi ben vedere Un avviso di allerta Ti notifica Che bisogna Stare particolarmente Attenti Ma Con il tempo Se imparerai A sapere Dove mettere le mani Avrai Modo di poter Utilizzare Questa opzione Per le tue Attività Soprattutto Personalmente Per quel che riguarda Me Di diagnostica Riposizioniamo Tutto Come È meglio Impostata E applichiamo Quest'opzione Altra cosa Che ritengo Particolarmente Utile È Evidenziare Le estensioni Per i tipi Di file Conosciuti In questo caso Infatti Ho deselezionato Quest'opzione Normalmente È selezionata Ti faccio vedere Cosa accade Se supponiamo Vado a Visualizzare Una cartella Che contiene Dei file Multimediale Quindi qui Puoi vedere L'estensione .mp3 Se vai a Far acquisire Questa Opzione Andrà A scomparire L'estensione Quindi tu Non sai Che tipo Di file È quello Che andrai A selezionare Ecco che Per una migliore Gestione Di file E cartelle Io preferisco Sempre visualizzare Le estensioni Altra cosa Che ti potrebbe Tornare utile È andare A impostare Una visualizzazione Personalizzata Per alcuni Tipi di cartelle Come puoi vedere Questo pulsante Non è attivo Una possibilità Che hai Di variare La visualizzazione Di alcune cartelle O partizioni È quella Di applicare Un tipo Di visualizzazione A determinate cartelle Cosa puoi fare Normalmente Puoi scegliere Di andare A visionare Una cartella Specifica Un gruppo Di cartelle Specifiche Per scegliere Il tipo Di selezione Cosa fai Dopo aver scelto La cartella O la partizione Puoi selezionare Il tipo Di visualizzazione Che meglio Repodi Opportuno Per quella Specifica Partizione Dopodiché Puoi Attivare Questo percorso Individuare Il pulsante Da organizza L'altro pulsante Layout E far comparire La barra De menu Da questo pulsante Andrai Ad individuare Il pulsante Che attiva L'opzione Cartella Di visualizzazione E all'interno Della visualizzazione Troverai attivo A questo punto Il pulsante Applica Le cartelle Dopo Una conferma Cliccando su Si Avrai applicato Il tipo Di visualizzazione Per queste Determinate Cartelle Come puoi vedere È applicata A tutta Questa partizione Per poter Tornare Alla visualizzazione Normale Non ti resta Che cliccare Sul pulsante Reimposta Cartelle E ad una conferma Tornerà Alla visualizzazione Standard Che sarà Prefissata Dal programmatore Applichiamo Questa opzione E torniamo All'ultima sezione Dell'opzione Cartella È quella Per effettuare La ricerca Come detto Qui puoi gestire Le metodologie Con i quali Andare a ricercare File Elementi All'interno Del sistema Operativo All'interno Partizione Dei file Dei elementi Che ti permette Di rendere Più rapida La ricerca Di alcuni Tipi di file All'interno Delle partizioni Del sistema Operativo Oppure Selezionare Quest'altro Segno Di spunta Per poter Rendere Più corposa La ricerca Stessa E quindi Naturalmente Più lunga Sa te Decidere Di selezionare L'una O l'altra Opzione E applicandola Potrai Effettuare Ricerche Di un elemento Seguendo L'opzione Di ricerca Integrata Nel sistema Operativo Nella fattispecie Questa opzione Ti permetterà Di operare All'interno Di un campo Di ricerca Supponiamo Di voler Ricercare La guida Al computer Dopo O un certo Numero Di secondi Un minuto A seconda Della corposità E qui Hai Un'allerta Che nei percorsi Non indicizzati La ricerca Potrebbe essere Molto lenta Comunque Una volta Che tu Selezioni La parola O il gruppo Di parole Si avvierà La ricerca In base Alla tipologia Di selezione Eseguita Ti faccio vedere La differenza Tra le due Opzioni Nel momento In cui andrai Ad eseguire Questa ricerca Come puoi vedere La durata Della stessa Sarà Notevolmente Diversa Perché In questo caso La ricerca Sarà molto Più corposa Sta a te Decidere Di individuare L'una O l'altra Opzione In base Alle necessità Qui puoi Decidere Di selezionare O meno Se all'interno Della ricerca Includere Sotto cartelle Rispetto Alla cartella Che hai Selezionata Oppure Impostare O meno Delle corrispondenze Alterato Puoi decidere Di non Utilizzare L'indice Se dovessi Effettuare Una ricerca All'interno Di file Del sistema Se magari Dovessi Eseguire Una ricerca Molto più Corposa Per un Determinato File Che normalmente Può non Rientrare Nelle ricerche Standard Ed infine Tramite Questi due Segni Di spunta Selezionare All'interno Della ricerca La metodologia Che ti permette Di includere Le cartelle Di sistema Oppure Includere O escludere Naturalmente Se deselezioni Queste caselle Di spunta Alcune tipologie Di file Come i file Compressi O simili Il pulsante Ripristina Predefiniti Ripristina Le impostazioni Predefinite Per questa sezione E termino Questa Lunga Spiegazione Ricordandoti Che il pulsante Annulla Rigetta Ogni tipo Di impostazione Che avrai Selezionato All'interno Della sezione Il pulsante Applica Ti permette Di far acquisire Le impostazioni Ma non Chiudendo La cartella Che avrai In visione Il pulsante Ok Ti permetterà Di far acquisire Le opzioni O le opzioni Che avrai Selezionato E chiudere La cartella Che sarà Visionata In quel momento Ci leggiamo Nella prossima Lezione Per altre Informazioni Del pannello Di controllo Ora come sempre Un forte saluto Ciao a presto Ragallo e dalla prossima Ciao a presto 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 Ciao a presto